UN PROCURATORE AFFERMATO Lei sarà l'accusa? Sì, sarò io. UN UOMO INNOCENTE Non ho fatto niente, sono innocente. Ho finito il lavoro e ho fatto un giro. Lei non va mai in giro in macchina di mattina. Ho fatto qualche ricerca e è uscita una sfilza di omicidi irrisolti. Credi che lui sia un serial killer? Che succede con l'autista che ha omesso il soccorso? Potrebbe anche costituirsi. Lei lo farebbe? So cosa hai fatto. Perché secondo te, Michi, la famiglia è una cosa preziosa, Michi? Non te la farò passare liscia. Sì, lo farai. O ti rovinerò. Dominic Cooper. Ogni prova porta dritto a te. Samuel L. Jackson. E se ci fosse un altro omicidio mentre sei agli arresti? Contribuirebbe a far luce sulla tua innocenza? O comunque solleverebbe un ragionevole dubbio sulla tua colpevolezza? Dove sei, Davis? Tu devi riuscire a capire cosa significa essere me. Un ragionevole dubbio. È un gioco per te? No. Dal 6 marzo al cinema.